Signor Rilaldi, lei voleva aggiungere qualcosa? Mi ringrazio. Vorrei dire una cosa, un auspicio. Sarò pesante, ma lo penso fermamente, e ho voglia di dirlo proprio qui nella sede del Parlamento. Quando un giorno sarà ristabilita veramente la democrazia, mi auguro che tutti i responsabili che hanno contribuito a questo disastro dell'Europa siano giudicati da un tribunale internazionale per quello che hanno fatto contro. Devono essere giudicati perché siano giudicati da un tribunale internazionale, perché hanno compiuto dei crimini contro dei popoli. C'è gente che si è suicidata per questi problemi. È necessario che sia ristabilito l'ordine delle cose. Scusate. Non si preoccupi. Ho detto tribunale internazionale. Non si preoccupi.